Bella ragazzi sono la rossa e bentornati in questo prossimo episodio di Riviera la terra promessa Ed eccoci due Ci siamo lasciati alle porte dell'inferno Dei sotterranei molto profondi sconosciuti dall'uomo Quali segreti ce l'era mai questo labirinto occulto? Ragazzi zona misteriosa eh Occhio Eh c'è molto zolfo mi sa Eh io non lo so Vediamo Oh Gente cattiva qua Combattiamo visto che ci siamo potenziati Ulteriormente con le nuove armi Forza Infatti guardate Allora questa Questo Anzi Questo Ecco Questo E il bastone Vai Tutti pronti? Spada Mietrilla Cosa? Un verme è riuscito a parare? Eh state calmo Sono molto resistenti questi No manca pochissimo Vai Si è parato? Si è parato? No Cos'è questa storia? Resistenza al fuoco? No No Eh 400 È troppo poco comunque È livello 3 Oh 124 Finalmente Questo Incazzato Attenzione Attenzione Overdrive Di livello 3 Ok Ok ci siamo Tu puoi fare Del livello 3 Platino Sereno Oh Oh 열� Questa Questo sì che è un bel colpo. Peccato che in alcune fasi abbiano parato il colpo. Peccato. Vai anche lui. Tra poco. Oh di nuovo? Wow. Doppio attacco per Ayn. Non è mai successo a dire il vero. Grande. E ora vai. Grafica magica. Eh ciao ciao. Esatto. Eh si vede che ci siamo potenziati? Però aspetta non che... È carne di drago? Che cazzo? Senti toglielo con il nastro. Io non so più... Svia. Torna indietro. Ho sentito una voce. Chi è stato? Mi sento una energia negativa forte. Che pensi che potrebbe essere? Guarda questo piccolo icicolo! L'acqua deve essere fissata e fissata. Trita? Cosa è? Proviamo a tritare? Proviamo a tritare? Proviamo. Ehi! Ok, dovremmo esserci riusciti. Anche sa il pelo. Olè! Fendente di ghiaccio! 4000 punti! Grande! Eh... Addirittura! Prendi! Ghiaccio magico? Olè! Quanti punti? Ah, così proprio! Souvenir! Se ci affrettiamo! Cos'è? Una sfida a tempo? Ah, proprio! Eh, se ci affrettiamo! Cos'è? Una sfida a tempo? Andiamo avanti! Anche se la voce dice di tornare indietro! Un blocco di ghiaccio! Un blocco di ghiaccio! Wow! Come è che si è? Non è naturale! Sono sicuro che la magica era inoltre! Facciamo del gelato! Non è naturale! Come fai a dirlo? Ah! Vabbè! Giustamente! Vabbè! Giustamente! È una strega lei! Ti voglio vedere! Vai Serene! Finiscilo! Felicino! Perché lo manchi sempre? Ma guarda un po'! Guarda un po'! Guarda un po'! Si è arressalita di livello! Togli sto amuleto! Che non serve a nulla! E proseguiamo! Ooooooh! Aaaaaah! Combatti! Intento malvagio! Aia! Aia! Allora! Proviamo! Dai! Maia! Perché sta musica? No! Dai! Sta musica! Cazzo! È vero! Aaaaaah! Serve per forza la magia per queste cose! Io li odio! No! Che stronzata! Sono tutti attacchi fisici questi! Non ci ho pensato! Aia! Aia! Però fanno poco danno! Ecco! Cambiamento! Fuoco! Eh! Per forza! 11! Oh! Facendo questo noi aumentiamo la nostra resistenza! Resistenza all'oscurità! Ancora! Ancora! Allora! Quello che noi stiamo facendo adesso è la magia sacra! Quando loro si trasformeranno con l'elemento oscurità... Dovremmo fargli un casino di danno! No! Sono... Sono ritornate alla cosa di prima! Oh! 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 No! Livello zero! Porca di quella! Ok sono di livello oscurità Vai Adesso dovremmo fargli un botto di danno Cosa? Non è che non è Aia Non è che Siamo cambiati tantissimo Vai Vi ricordo che Questi nemici quando sono gialli sono di elemento fulmine Eh no facevamo più prima perché E se abbiamo fatto 160 Ok ci hanno mancato No No E' grazie al cacchio Che fail Mitri il cura Vai Ora dovrebbero essere sacro Visto che sono verde Come elemento E' un andato Grande Grande Manca quello che Lo abbiamo curato Ha in andato Attenzione livello 3 Comunque Arco elfico Via Dai che lei ha ancora Vita quasi piena Zam 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 Oh Per poco Ancora a te Sierra Per favore Beee Sierra Seren ci saluta Ma Noi abbiamo vinto Comunque Sierra L'unica sopravvissuta No Questi nemici sono Bastardessimi Se Non li colpisci Con la magia E' finita E' finita E' cala E' solo lei Sopravvissuta Che chiacchio è E infatti abbiamo preso C Che schifo Cosa Sopravvissuta Ragazzi Ragazzi Uno drago zombie 6000 punti Se lo riusciamo a battere Proviamo Ragazzi Che cos'è Allora Fermi Questo Questo Proviamo con Mithril Dov'è l'altra cosa Di Mithril Dov'è Mithril Ah Questa qui Perché questa Non so se Se ci riusciamo E' il bastone corallo Forza Vai Ecco Eh se c'è questa musica Si Cosa Una lunga battaglia Sarà questa VELENO VELENO Persiste Aia Aia C'è Ha tolto Tipo 100 Livello 1 Sto Livello 3 Vai Aia Aia Grande Grande Aia Vai E Spondalo Over Spondalo Scossa Terrestre Ma è Aia E' a metà E' a metà vita Aia Aia Oh La sua ulti Questa Mi sa No pochissimo No pochissimo Perché è oscurità Quell'elemento lì No pochissimo Noo non puoi mancarlo Cazzo Cazzo Aia 72 76 Punti Rimasti Oh Vai Gli attacchi Con Con La magia Di tipo Sacro Sono le Migliori Parha Punti Di tipo Di tipo envy выд真 Di tipo Orr Di tipo Punti Di tipo Cheque this Di tipo In Di De Di tipo E ciao ciao Sei lettera No 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 Meno male che ho Livellato Sierra Livello 2 Livello 3 Vai Sierra Distruggilo Distruggilo Ho fatto benissimo A metterti in squadra Ho fatto benissimo Wow Cos'è Chiave dell'inferno Cos'era il guardiano Chiave inferno ottenuta 3500 Ma noi dovevamo andare all'inferno No Non mi pare Appunto era tipo il guardiano Aia Oh Cosa è successo Ah ma Ah ma ritorniamo indietro qui Ah Ah Abbiamo fatto tutto sto Vabbè Non lo so Stranissimo Proviamo a scendere E qua mi sa che è Invalicabile Eccala Eh si dobbiamo finire qua E qua E qua dobbiamo ancora finire qua Allora Ritorniamo qua dentro Si è l'Ank E l'ultima volta Vero? Si Allora Proviamo l'Ank X Veramente non possiamo più entrare lì dentro Si Non possiamo più entrare lì dentro A Allora avevamo la I Adesso abbiamo preso l'Ank X Proviamo l'Ank T Via Dovrebbe essere Ecco Però non lo so Ok Questa è una nuova Questa è una nuova zona Eh si Pietra che salta Cosa? Pietra che salta? Ma cosa? Ok Non l'ho capita Però vabbè Ancora? Ok E basta Mi sa che si è Buggato Penso proprio di si Ah Adesso ce n'è un altro Non ho Assolutamente capito Stiamo facendo tutto giusto Al momento Oh e basta Ma quante robe Cioè poi In loop Poi In loop 40.000 volte Destra Su E giù Ottimo Non capisco Cioè Che utilità dovrebbe avere Non capisco Non capisco Non capisco l'utilità Di questa cosa Poi è troppo E' troppo semplice Cioè Tre tasti in croce Devi Devi premere Ancora Niente Io vado avanti Ancora Un po' Se Se Sempre così Tipo smetto Perché No basta Posso tornare indietro Non posso neanche tornare indietro E' fallimento Per forza E' per forza E' no Porta pazienza Senti Andiamo qua Eh Entriamo Questa Aaaaa Cos'è No Questo Cosa serve Libro Bagnato Allora Questo Questo E questo Vai E si Ben Tre Certo Sono anche Forti Vai Ecco Eeeh Zoom 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 No Quello Mitraglietta Mitraglietta Vai Attenzione che qua La gente sta per morire male Livello 1 Dai Provaci 379 Eh Dai Grande No 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 ahia oh ese arrabà se ne va in panchina si lo sappiamo che è che sei brava e forte eccola scarti i tarocchi e se era una trappola proviamo a scendere è ancora bloccato ah così ah no questo è l'altare blu allora proviamo a dare l'anca a questo blu vediamo a scendere ahhh ok scendiamo ancora e ahhh un forzere si dai ah e come è chiuso un ladro o un mago serene una ladra noi non siamo ladri e vabbè e vabbè andiamo a destra qua adesso ci dice che è no no zitti tutti oh grande eh festeggiamo soffitto grande successiva area pietà pietà cosa sarebbe a dire pietà ok ma lo scopriremo ragazzi nel prossimo episodio come per questo episodio di rivela la terra promessa è tutto vero ricordo che se non sono ancora scrittura nella descrizione e ragionate i prossimi episodi di questo gioco e mettere un bel po' geni sull'episodio ma guarda la vostra nei commenti consigliere i menti consigliere tutto quello che volete noi ci sentiamo ragazzi a un prossimo video bella